Musica Furti e allacci abusivi, si lucra anche sull'acqua, la Calabria insomma non si fa mancare nulla. A Corigliano Rossano manca il prezioso liquido in molte aree del centro urbano, con tanto di polemiche sui social. Oggi questo disagio è avvertito di meno, grazie all'attivazione di nuovi pozzi. Il tutto in attesa che prenda corso il processo di ingegnerizzazione di reti e di impianti. Manca una mappatura della rete idrica comunale, in larga parte fatiscente e con continue perdite. Ma l'aspetto inquietante è lo strisciante malcostume. Il sistema idrico qui, nella città di Corigliano Rossano, in che condizioni? Il sistema idrico è in condizioni pessime, come verificano i cittadini ogni giorno ormai da decenni. Per il disordine, per le perdite, per i furti, per la cattiva gestione, una serie di cause. E infine anche per un soggetto gestore regionale, che è Sorical, che andrebbe eliminato dalla gestione dell'acqua, perché Sorical è fonte più di problemi che di acqua. Senta, lei ha parlato anche di furti. Nel dettaglio ci può chiarire meglio questo aspetto? Come avvengono? No, è semplice. Allora, ci sono innanzitutto, dobbiamo dire che la legge prevede che non si possono fare allacci diretti sulle adduttrici a monte del serbatoio. Sia nella montagna di Rossano che nella montagna di Corigliano, poi ci sono i furti di pianura, poi sono quelli di montagna, ci sono allacci abusivi sull'adduttrice. Alcuni di questi allacci, più che abusivi, sono due categorie. Abusivi, uno che va e si attacca sull'adduttrice. Quelli illegali sono persone che negli anni hanno persino ricevuto concessioni. Talune risalenta addirittura, prima della nascita della Sorical, dall'ufficio acquedotto della regione Calabria. Ma sono tutti illegittimi perché non possono avvenire a monte dei serbatoi di accumulo. Di questi allacci è piena la montagna di Rossano e la montagna di Corigliano. La stima della sottrazione è di circa 10 litri al secondo sulle dotazioni che vengono dall'acquedotto del Fallistro, che aduce 44 litri al secondo, divise da un partitore che si trova a Serra della Castagna, a metrata Corigliano e Rossano. Sulla adduttrice poi ci sono questi allacci. A Rossano un allaccio l'ha fatto addirittura il Comune, che ha speso i soldi pubblici per portare l'acqua a Gambicella, drenando dall'aduttrice 2,8 litri al secondo, sottraendo a Rossano. Questa è una delle spiegazioni della carenza di acqua di Rossano Centro. Poi ci sono sulle reti di pianure cosa c'è? C'è il disordine totale, nel senso che nelle fasi di sviluppo edilizio ciascun costruttore faceva allacci a modo suo, come voleva, come un'autorizzava. Quindi non si sono potuti utilizzare tubazioni non conforme, passare dove non si doveva passare, allacciarsi dove non si doveva, c'è il disordine più totale. Su questa rete ci sono poi gli allacci abusivi. E però la cosa grave è che di queste reti non esiste una mappa. Non c'è una pianta dove dovrebbero essere rappresentati i serbatoi, i pozzetti, le valvole, perché c'erano valvole di regolazione che costano da 5 a 10 mila euro lungo la rete principale. E quindi si va secondo la memoria dell'ultimo fontaniere. Cioè siamo al medioevo sostanzialmente. Probabilmente a questo si porrà rimedio perché il comune di Corigliano Rossano ha firmato un protocollo con Solical con cui recupera i 6 milioni di euro della famosa ingegnerizzazione. Ci sono da 10 o 12 anni questi soldi fermi e le amministrazioni se ne sono stra-infischiate. Tant'è che erano stati dirottati su un progetto a Batemarcha dall'Aggiunto Oliverio. E la firma della Convenzione prevede come prima operazione giustamente la mappatura della rete. Finalmente avremo una mappa. Poi ci sono gli interventi ovviamente di ottimizzazione. Attivamente queste forme di, questi abusivi insomma, tutto questo avviene nella consapevolezza della pubblica amministrazione di burocrati e di politici oppure non ne sono consapevoli? Questo è stato oggetto del più becere e lurido clientelismo. Non solo la consapevolezza, c'è stata la complicità. Altrimenti non può accadere. C'è un pozzetto in un posto di Piana Vernile che si può fotografare sulla strada dove se uno l'apre ci trova venti all'acce sulla dottrice del fallistere. Quello l'ha fatto il fontanello del comune, mica l'ha fatto il privato che è andato lì a farselo. Non è così. A fronte di tutto questo la pubblica amministrazione non reagisce, non fa nulla? Io non sono la pubblica amministrazione ma nella mia testa cieca la pubblica amministrazione deve dare l'acqua a tutte, anche a questi signori. Ma non è possibile che si consumano abuse. Ma ci sono le soluzioni. Di volta in volta in ogni stagione estiva inizia un lamento legittimo dei cittadini. Alcune zone hanno l'acqua, altre no, non si possono fare la doccia. Tutto questo suo dire ha dei punti di connessione con questo disagio che vivono i cittadini? Non c'è dubbio perché da un lato abbiamo le disfunzioni prodotte da Solical. La rete Solical. Noi abbiamo due principali forniture da Solical che sono la maggior parte dell'acqua che noi abbiamo. Da Solical riceviamo acqua dall'acquedotto del Trionto, credo intorno a 40-50 litri al secondo. e altri 44 dal Fallistro. Poi per Corigliano la Solical fornisce anche per cantinelle e piccole frazioni una quota di acqua che proviene dall'acquedotto del Leiano che si trova nel Pollino. Solo per Corigliano per queste frazioni. Le condotte Solical sono stravecchie. Si rompono un giorno sì o no. Noi abbiamo problemi perché o a Toscano o a Mirto si rompe la condotta Solical. Questa è fonte di problematiche enorme. Però attiene alla Solical che speriamo adesso sarà interamente pubblica. Mi auguro che passi a una gestione non clientelare ma efficiente. Poi ci sono i problemi del Comune naturalmente perché questa è la parte Solical. Il Comune ha le sue fonti idriche che sono di due tipi. Le sorgenti e i pozzi. I Comuni che fanno il regime di emergenza fanno pozzi. È la misura più urgente e più facile a realizzarsi. Adesso si cambia rotta. Cioè se serve qualche pozzo lo si fa e si è fatto in questi due anni. Ma si recuperano gli acquedotti comunali. E qui si apre un capitolo perché nella montagna di Corigliano ci sono sorgenti in un posto che si chiama proprio Bosco dell'Acqua e in un altro posto che si sono perse. Sono comunali, attenzione. Lo stesso vale a Rossano dove il gruppo di sorgenti che si trova tra Cozzo Pizzuto e la località Toscanella è stato vandalizzato, distrutto, rubato e vandalizzato i serbatoi senza che nessuno avesse mai fatto niente. Che è il lavoro che si sta facendo adesso che è in fase avanzata. È cominciato l'anno scorso questo lavoro. E lo stesso lavoro adesso l'ho proposto decine di volte a tutti i sindaci. Non è stato possibile. Finalmente si arriva all'esorgente del Tufarello. Non ce l'ho manca arrivato in passato. E quindi si recuperano le portate perse e nello stesso tempo si fa la pista di accesso perché ci sono perdite lungo la Duttrige che non sono state mai riparate. La storia del Tufarello va raccontata perché nasce come un acquedotto che porta 10 litri al secondo. le misure fatte adesso prima dei lavori di manutenzione straordinaria davano 5 litri al secondo cioè la portata di mezzata. I nostri io non faccio accusi io racconto fatti hanno pensato di interrompere il flusso per Rossano perché non era sufficiente senza pensare di andare all'origine del problema. Quando dice i nostri a cosa si riferisce? I nostri amministratori e tecnici del Comune nel corso degli anni anziché interrompere la fornitura di Tufarello al Rossano Centro andavi a sistemare l'esorgente e la condotta diciamo. Almeno 3-4 litri al secondo credi che adesso si siano recuperati o si stanno recuperando diciamo. Alc5-6 le recuperi alla montagna hai già fatto 10 litri al secondo. Poi devi sistemare la questione degli allacci almeno per questo aspetto. Poi ci sono tutte le altre problematiche comunali che sono per esempio le perdite che è un'altra fonte di dispersione enorme. Questa amministrazione al di là della mappatura come intende a suo parere da quel che è a sua conoscenza risolvere non so se c'è una risoluzione a carattere permanente della rete idrica? Intanto intanto noi siamo usciti da una fase in cui due anni fa le autobot giravano tutto lo sano scalo adesso non girano più vuol dire che qualcosa è successo. Io vivevo in un posto dove da 15 anni non avevo acqua io adesso ce l'ho io so il perché ovviamente perché da un lato si sono individuati perdite dall'altra si sono individuate nuove fonti in questo caso per lo scalo sono pozzi chiaramente e quindi questa dotazione ha migliorato non in toto la situazione di Rossano Scalo ma almeno in parte perlomeno nelle aree che avevano problematiche più rilevanti penso a tutto Donnanna oggi manca l'acqua ma oggi manca l'acqua perché c'è una rottura della dottrice solica l'una delle tante questo ragionamento può essere stesso anche a Corigliano vale anche per Corigliano dove questo pozzo Iacina che porterà 8 litri al secondo dopo le analisi ovviamente migliorerà notevolmente la situazione di Corigliano Scalo attenzione noi abbiamo già ottimizzato il mare il mare l'anno scorso non ha lamentato carenze di acqua perché due pozzi fatti l'anno scorso vanno a finire direttamente a servire le zone marine quindi non ci sono state lamentazioni lì ne abbiamo nello scalo perché c'erano problemi sulla rete problemi su Sorical sia a Corigliano sia a Rossano a Corigliano abbiamo anche situazioni paradossali frazioni intere sprovviste di acquedotto pubblico che è ancora più grave la situazione e la polemica lo scorso è una scavonea di pozzi contaminati, inquinati non si è capito bene poi che cosa sia accaduto lì da quello che ho letto è stato immesso nella rete un pozzo che aveva qualche problema forse non era l'acqua del pozzo che magari era anche buono perché sono certo che chi è responsabile fa le analisi prima sono sicuro che vengono fatte sempre probabilmente è stato immesso in qualche tubazione lurida sporca chissà che c'era finita che poi è finita nelle case della gente insomma un'ultima battuta purtroppo con i tempi non ce la facciamo quando parla di Sorical è una struttura totalmente da riformare ma l'organismo va bene o bisogna fare un ritorno al passato quando c'era la gestione diretta un po' dei comuni io sono per l'acqua pubblica in linea di principi e in linea pratica Sorical è la dimostrazione di come l'introduzione di un socio privato non abbia giovato anzi non ha prodotto investimenti rilevanti se non quelli pubblici che arrivavano dalla comunità europea o dallo Stato tipo la diga del mento o altre dighe su cui si è lavorato ma il socio privato non ha investito un euro nello stesso tempo la politica è entrata a gamba tese a Sorical è entrata così violentamente che l'ha riempita di assunzioni clientelari alla fine è stato persino commisariato con un commisario mi dispiace dirlo per lui lo conosco bene ma lui di acqua non so cosa ne capisca l'ultimo che ha messo Oliverio è un ex assessore magari ottimo politicamente ma a me una persona sbagliata al posto sbagliato insomma ma Oliverio io lo critico apertamente perché ha fatto scelte non è l'unica questa di questo tipo diciamo cioè accontentiamo gli amici quindi Sorical va riportata alla gestione pubblica che non sia sulla carta che non sia il socio unico regione ma siano soci i comuni che vengano coinvolti nella gestione e che sia rivista profondamente nel suo modello gestionale perché il paradosso è che a Corigliano Rossano come in tutta la Calabria l'acqua non manca noi siamo ricchissimi di acqua se solo noi completassimo il sistema delle dighe immaginate nel 1975 dalla Cassa del Mezzogiorno finanziate realizzate in parte non finite eccetera noi potremmo vendere acqua ad altri questo è il paradosso e potremmo produrre energia elettrica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.